Dietro il trucco, le parrucche e i travestimenti di questi personaggi si nasconde il talento di Paolo Conticini. Tale quale show che esperienza è stata? È stata un'esperienza meravigliosa, non volevo farlo perché pensavo non c'entrasse niente col mestiere dell'attore. Invece è una prova d'attore a tutto tondo perché devi recitare, devi muoverti, devi imitare, devi cantare. Le sue performance in tale quale show ci hanno svelato la voce e le capacità camaleontiche dell'attore toscano che in passato ha lavorato come modello e disegnatore in uno studio di arredamento per poi scoprire il mondo della recitazione. Sono tante le pellicole che ha interpretato ma nel suo curriculum ci sono anche fiction di grande successo come Provaci ancora Proffe e Un medico in famiglia. Com'è Paolo Conticini, come attore? Paolo Conticini secondo me è il più bravo attore che io abbia mai visto a teatro e al cinema. Però in televisione è il secondo. E il primo chi è? Bud Spencer. In questo momento è alle prese con il suo prossimo film, una commedia dal titolo di tutti i colori. Nel cast anche Nino Frassica e Giancarlo Giannini. Stiamo festeggiando stasera l'inizio di un film, una commedia molto spumeggiante. Abbiamo fatto una scena al Colosseo e mi hanno vestito da centurione. Quindi è una cosa... Vabbè, comunque... Mancava il centurione forse nella tua carriera? Spero che non sia l'ultimo stadio, ma insomma... È un film abbastanza corale. Lavorare con Giancarlo Giannini. Come dire, sono in squadra con Ibrahimovic, guarda, è un gusto pazzesco. Paolo è pronto a conquistare il cinema sovietico. Infatti il film è una coproduzione Italia-Russia, protagonista femminile Olga Pogodina. Spazio, paio, 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 paio. Sentiamo il regista Max Nardari e il giovane protagonista Andrea Preti. Perché hai scelto Paolo Conticini? Lui è bello, impossibile, ma divertente. Penso che sia l'unico attore bello e divertente veramente che abbiamo. Se gli diciamo, Paolo, che ci sta sentendo in questo momento... Paolo, guarda che non ce la farai a mettermi sotto. Te lo dico, ci sto provando in qualsiasi modo a sfuggirti e ci riuscirò, credimi. Sei un grande. E sulle note di Tu, bofà, l'americano di Renato Carosone, Paolo Conticini. Eccolo che arriva. Tu, bofà, l'americano, americano, siete a me che tu fa il bambino. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi il whisky e il soda, quando si è ungeristo in bambino, quando si è ungeristo in bambino. Qua da allora che non hai sorpresa. Devi parlare, eh? No. No. Ma è una sorpresa che io non sapevo di tutte queste interviste. Poi mi hanno intervistato anche me e mi hanno messo in mezzo a loro. Non lo sapevo neppure io. Bene, bene. Bene, allora, puoi pure sederti, Paolo, perché adesso... Quindi vai al Trespo, solo io qua. ...arrivano le interviste della Daniele di 40. Allora, eh beh, sì, tanta roba, possiamo dire così. Tu vuoi fare l'americano? No, no, sono pisano e pisano resto. Italiano, italiano. Sei nato in Italia. Sì, perché... Noi ti abbiamo visto, no? Ultimamente, a tale quale show, tu hai interpretato tantissimi personaggi, un po' la vita dell'attore, quello di entrare dentro i panni di un altro. Ma tu sei più uno, nessuno, centomila. Pensa, mio nonno mi chiamava Ruffamondo, perché ne facevo di tutte, però non ne portavo a termine una. E quindi il mestiere dell'attore è un po' questo, no? Ti danno un ruolo da fare, naturalmente tu devi accettarlo e cerchi di farlo al meglio. Quindi posso essere tutti, però posso essere anche nessuno, se lo fai male. Questo è vero, è vero. Allora, Paolo, in questi giorni, uno dei motivi in cui oggi è qui insieme a noi, ne sta combinando di tutti i colori. Perché stai girando il tuo nuovo film. Sì, è una commedia molto carina, con dei nuovi attori, Andrea Preti è uno dei protagonisti, e poi c'è Olga Pogodina, ho sentito un accento diverso, io l'ho sempre chiamata Pogodi, ma no, invece ho sentito Pogodina, va bene. E' una commedia spumeggiante, credo molto divertente. Bene, allora ti facciamo un ribocca al lupo, insieme a tutti gli attori, appunto.